E' questo che vuoi no? Il tuo bel piatto di patatine fritte, hamburger, salse, non vuoi fare mai un passo a piedi, devo accompagnarti dappertutto, non ricordo l'ultima volta che hai mangiato della frutta. Andiamo a casa, ti preparo un'insalata, qualcosa di buono. Non voglio disturbarvi. Non mi disturbi. Prendo un hamburger e delle patatine. Solo le patatine. Solo l'hamburger. Magari della maiole. Coca-Cola. Polo fritto. Nutella. Eccolo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.